Buon pomeriggio amici, bentrovati con il suo appuntamento pomeridiano. In realtà ho parlato con Ezio di quella che è la versione musicale della Juventus, cioè discuteremo così per gossip su quelli che sono i gusti dei calciatori juventini in ambito musicale. Eviterei perché sono tutti rapper dal dubbio passato e dai trascorsi giudiziali, per cui tranne Nicolucci Gaviglia che ha detto di ascoltare Guccini. E va bene, ogni causa è pretesto. Però tornerei un attimo, chiusa questa piccola parentesi, a quelle che sono le espulsioni a tempo che stanno per arrivare nel calcio. Ne abbiamo parlato ieri con Ezio. Passo importante, ma non è ancora quello definitivo, che è partito tutto nel 2018-19-20 con la sperimentazione nel calcio di base inglese nei tornei giovanili. Ora, velocemente qualche piccola considerazione. Ieri in una riunione che si è tenuta a Heathrow, l'aeroporto londinese, è stata varata un'altra tornata di esperimenti a livello più alto. E va bene. Per valutare l'inserimento di queste regole del calcio e dell'espulsione a tempo. Premettiamo una cosa. Vi faccio una domanda. Ma qualcuno di voi ha capito perfettamente quando il VAR può intervenire, quando non intervenire, quanto condiziona l'arbitro? Io, pur studiando un pochino le regole, non ci sono ancora arrivato a questo tipo di certezza assoluta. Quello che sappiamo è che questo calterino arancione, però vandrei poi più sulle polemiche che potrebbe suscitare, si prenderebbe in considerazione la possibilità di tenere fuori dal campo un giocatore per un periodo che va dal 10 al 15% del tempo della partita. Quindi 9 o 10 minuti. Attenzione. 9 o 10 minuti possono valere una partita. Lo sappiamo perfettamente. La punizione a tempo arriverebbe per falli che ora sono puniti dalla munizione riguardano il campo dell'antisportività. Noi siamo di fronte a normalmente recite teatrali di altissima categoria. Abbiamo visto giocatori che si buttano per terra quando la palla è intratta in rete. Quali? L'arbitro dovrà valutare le trattenute, le perdite di tempo. Facciamo un piccolo paragone con la Formula 1. Quando usare il DRS, quando non usarlo. Cioè si moltiplicherebbero le occasioni di polemica, no? Perché noi stiamo rendendo il calcio in questo contesto sempre più farraginoso, con tante regole. Prima avevamo un sacco di uomini in campo, quindi sei. Adesso abbiamo il VAR con la VAR, che è l'assistente del VAR. La voce che riporta le immagini, lo abbiamo visto, no? Perché ogni tanto ascoltiamo quello che il VAR dice e lo vediamo. L'arbitro mostra un cartino al giocatore giallo e poi indica l'area tecnica di fronte alla panchina, che è il luogo dove il giocatore deve attendere i dieci minuti, che non sono effettivi. Ma dieci minuti, cinque, quanto quest'arbitro deciderà di tenere fuori il difensore, l'attaccante, il centrocampista? Includono anche il tempo di eventuali infortuni e attenzione, perché qui rischia di esserci il buco da cui sgonfiare l'effetto dell'espulsione a tempo, cioè simuli un infortunio, altri trucchi per perdere tempo, no? Terminato il tempo della punizione, l'arbitro rimette in campo il giocatore. Qualcuno parla di modernizzazione, può anche essere vero, e spettacolarizzazione. Ma quante volte noi dobbiamo fermarci e quante volte il calciatore si ferma perché c'è un controllo VAR, che è anche questo, se lo notate, molto spettacolare, perché l'arbitro si ferma davanti al VAR e poi, prima di entrare in campo, fa il segno, così, e dice sì o no. Quindi, in teoria, queste espulsioni a tempo sarebbero l'ennesimo deterrente per il gioco violento, favorendo i calciatori più tecnici, ma non solo. Quindi, le situazioni di gioco di superiorità numerica temporanea aumenterebbero l'intensità della partita oppure aumenterebbero l'intensità delle polemiche. Tutte e due, entrambe, secondo me, perché con una squadra spinta a concretizzare il vantaggio l'altra deve riorganizzarsi, praticamente, per il periodo di inferiorità. Immaginate un attimo, ma poi ci arrivi a... Anche dal punto di vista dell'andamento delle gare, diversivi, come nella palla nuoto, che sappiamo funziona in questo modo, quando verrebbe utilizzato il cartellino arancione. Il cartellino arancione è quando il rosso diventerebbe eccessivo, no? Il giallo troppo poco. E attenzione, anche qui, ma quando? È l'arbitro che deve valutare se è un giallo, un arancione o un rosso. Immaginatevi le polemiche a un domani, perché ha espulso il difensore e la dietrologia si sprecherebbe, no? Ah, beh, però quello lì l'ha tenuto fuori perché ha visto che comunque ha trovato il pretesto, la direzione di gara. Immaginate che polemiche. Era un fallo d'espulsione, non era un fallo da dieci minuti fuori. Io non oso pensare. Sta diventando sempre più complicato e sempre meno decisivo, cioè sempre più decisivo soprattutto per orientare le partite. La Juve non sa qualcosa. Orientarle nel modo in cui vogliono loro. Perché anche il VAR abbiamo visto che in quella famosa gara è stata presa in considerazione un fotogramma prima al posto del fotogramma dopo, perché se fosse stato preso in considerazione il fotogramma dopo sarebbe stato, in questo caso, un gol valido e regolare, no? Parliamo del gol di Ken annullato. Anche qui si scatenerebbero polemiche a non finire. Lo fanno apposta a punto interrogativo per creare materiale su cui lavorare nel corso della settimana? Oppure un ulteriore spediente per, come dire, gestire in modo un pochino equivoco le partite? Perché è facile pensare che l'intenzione di un calciatore che si vuole tenere fuori per un attimo, parlo sempre della Juve, può essere un gioco violento, un'antisportività, magari anche una simulazione. Quindi fra VAR, cartellino a tempo, per me un bel casino. Poi pensate un po' come volete. Fabri e il Monza, sarà arbitrato da Fabri la partita con la gara. E volevo solo ricordare che comunque lui è quello che in Juventus Napoli all'83, 0-0 di Maria in contropiede, gol annullato con il VAR. Va bene, era qualche considerazione su un calcio che sta diventando, in teoria, sempre più dovrebbe essere certo, non nelle regole, perché il VAR avrebbe dovuto aiutare a comprendere meglio delle situazioni, ma secondo me è sempre più incerto, perché sono mille rivoli su cui potremmo far polemiche, su cui gli arbitri, non è tanto da Juventini far questo tipo di considerazione, ma lo facciamo, potrebbero orientarsi anche in questo caso per, come dire, aggiustare una partita. Ci vediamo presto, grazie.